Venturnesima lettura. Stettero in giro per l'Europa dall'inizio del luglio a tutt'agosto sulla strada del ritorno, passarono per l'Austria fermandosi qualche giorno a Vienna, poi scesero in Italia dal valico del Tarrisio. Stiamo parlando di Sandro e della moglie. «Allora, ti è stato utile questo viaggio?» gli chiese d'un tratto Marina. Era lei al volante, gli aveva dato il cambio quando si erano fermati a prendere un caffè sotto Udine ed ora stavano filando sull'autostrada verso Venezia. «Dici per il libro?» «Certo, spero tu abbia trovato quanto ti serviva. Confesso che in tutti questi giorni non ho mai capito bene cosa esattamente stessi cercando. Voglio dire che c'entrano la Normandia e i lager, tanto per dirne una, con la vicenda delle tue donne fucilate a Roma», fece lei. «È una buona domanda questa, davvero buona, e quando trovo la risposta avrò trovato anche la chiave del libro», disse lui. «Sfotti?» «No, ti assicuro che devo riordinare le idee. Ho assorbito tutto in fretta troppo». Si immerse nei suoi pensieri guardando la campagna friulana scorre gli accanto. Marina capì che era giunto per lui il momento del bilancio globale e non insistette. Si concentrò sulla guida del camper, contenta di aver provocato nel suo uomo quel tipo di riflessione. L'interrogativo aveva in realtà centrato Sandro, più di quanto lei immaginasse. Se lo stava infatti ponendo da qualche giorno e le rispose che si dava, si dava, si andavano assemblando senza aver però raggiunto ancora il loro punto locale, le idee. Ora il viaggio era terminato e tutti gli spezzoni che ne facevano parte gli apparivano nititi compiutamente connessi tra loro. Li passò in rassegna e comprese che la risposta era lì, proprio nella globalità dell'itinerario percorso attraverso l'Europa in fiamme, dal 44 al 45. I luoghi gli avevano rievocato fatti e personaggi ed era stato come spostarsi nella fulmine a macchina del tempo che la memoria riusciva a muovere avanti e indietro attraverso i decenni. Era stato un vortice che lo aveva spinto assai lontano, assai più in alto del ponte di ferro dell'Ossiense, fissato a quel mattino d'aprile del 44, guardando dal finestrino del camper scorrere la campagna che adesso era già Veneto. I filari dividi tra Venezia e Pato, ma i campi di Gran Turco, le linde casette contadine che si tagliavano come scenografie di presepe contro l'azzurro del cielo e sotto il verde intenso dei colli. Gli tornò alla mente l'intero percorso. Lo vide scorrere sotto di sé nel viaggio virtuale che la fantasia gli stava dispiegando dinanzi. Quasi fosse un getturo. B. B. Bert, Bert, come se Bert fosse alla cloche del suo B-17. Di uno di quegli uccellacci di ferro che avevano volato e giù nei cieli di fuoco europei e lungo le pericose rotte del 44. Scorgere la costa normanna, apparire sottolinea grigia nella foschia dell'alba del 6 giugno e il formicolare degli uomini e dei mezzi sulle spiagge del Vallo Atlantico, tra le vampate delle esplosioni e subito sopra il continente. di Sinoltra percorre in un baleno le strade dell'assalto alleato da Caen a Caranten e poi a Frankel verso est, dritto alla fine della Germania. Con le colonne blindate di Patton passa su Parigi e l'Alsazia e poi sui grandi boschi delle Ardenne dove Hitler scadina l'ultima disperata offensiva dei Panzer. Qui la traiettoria della sua immaginazione vira a sud e ovest, passando sulle città tedesche martellate dai bombardamenti, gli agglomerati di fumo e fiamme che sono tutto ciò che resta di Dresta, di Hannover, di Stoccarda, Francoforte e Colonia. D'un rapido balzo raggiunge Braga, bevastata e in sorta, per superare il confine polacco dov'è Osvesim, tra le paludie e la nebbia, ed ecco che dalla terribile frontiera dell'inferno nazista vede montare la marea dell'Armata Rossa scattata dal Volga davanti a Stalingrado. sono le divisioni di Zhukov che rompono sulla pianura tedesca dell'Order, dilagano verso Berlino e conquistano la città ridotta a pianeta di macere e cadaveri. Vedi dall'alto, giù in fondo, verso il blu del Mediterraneo, srotorarsi lo stivale, fino sulle spiagge di Anzio e Nettuno, la costa insanguinata della battaglia d'Italia e il suo sguardo percorre il flusso della guerra verso Roma. Poi ancora avanti dalla pianura toscana alla costiera adriatica e infine sulle fortificazioni appenniniche della linea gotica che corrono dal segno alle valli del Comacchio. Era l'affugolazione della memoria. Gli ricostruiva i luoghi del viaggio, intessendogli con tempi e con gli avvenimenti, stabilendone in essi. Sandro ebbe d'un tratto coscienza. Lo avvertì con forza con un singulto dello stomaco che le dieci donne fucilate al ponte di ferro non erano il dettaglio passivo, insieme infinitamente più vasto e complesso, di un destino cieco che non macinava i corpi e le anime. Non erano un incidente casuale dell'occupazione nazista sul continente. Erano delle forze in campo. La loro non era stata una morte privata. Erano cadute nelle file dello stesso gigantesco esercito che combatteva o Mahabic e Karetan o Kharkov e Stalingrado e Bastogne e nelle Ardenne, ad Anzio, a Nettuno e nelle strade di Berlino. Erano parte agente del grande conflitto. Morivano combattendo la loro battaglia, che era quella del pane per i figli, come raggiungere a Pointe du Hock e Marines a Boccage. Combattevano la loro nella testa di Ponte Normanna, come tanti e tanti fanti e carristi russi dentro Berlino e gli equipaggi dei Lancaster inglesi per distruggere Hamburgo e Brema volando di notte col fuoco della contraerea. Erano come i partigiani dell'armata delle notte in Ucraina, in Macedonia, in Italia. Erano gli scheletri di Auschwitz e Manautesen. Non avevano nome, ma il loro nome era Patton, Zukov, Ike e Bulov. Non avevano tomba, ma erano sotto le lapidi su tutte le tombe della guerra antifascista attraverso l'Europa, sulla spiaggia siciliana di Gela, alla costa della Nombatia. Anche le loro dieci morti ignote avevano pesato nel conto finale. La mano della storia, impassibile e possente, aveva segnato anche lo spessore del loro eroismo. Umile la sconosciuta fiammella della loro vita e l'urlo e l'urlo spezzato della loro fine. La mano del destino aveva trasformato la loro angoscia contro la spalletta del ponte di ferro, in scheggia d'acciaio rovente, che si sarebbe abbattuto sul bunker di Reikant, per frantumarlo e polverizzarlo. Era questo, riflettè, mentre il camper si lasciava alle spalle i golli euganei e filava verso Ferrara. Era questo il nesso fra le dieci donne popolane, romane, fucilate e sevolte in una fossa comune, infinitissimente tragedia e apocalisse, massima della guerra sul territorio d'Europa. Siamo arrivati alla fine della ventunesima lettura. Care amiche fate, siamo arrivati a pagina 132, tra poco leggeremo la ventiduesima lettura, che però parla Europa 97. Qui Sandro, cioè Cesare De Simone, comincia a fare altre riflessioni sul periodo storico e su quello che è accaduto, perché quando lui scrive in corsivo fa delle riflessioni. Una lunga riflessione, come potrete vedere, e questo lo leggeremo prossimamente. Intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima lettura per costruire il prossimo 7 aprile 2023. Grazie a tutti.